il cambio del gusto e allora dobbiamo rincorrere la variazione appelsine una quercia farmia cioè quelle che perde le foglie la quercia napoletana che si chiama leccio invece le farne e le querce di madame Guevara gli alberi di madame Guevara passarono alla la parola di madame Guevara la parola di madame 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 Grazie.